padre michael ryan lei oggi ha parlato di etica e di business due concetti che molto spesso sono in contrapposizione anzi lei ha detto come se facessero un cortocircuito e quando parliamo di etica e business sono concetti astratti sono solo dei trend delle mode passeggere mi riferisco alla responsabilità sociale dell'impresa oppure sono due concetti che effettivamente possono trovare applicazione insieme nella realtà allora siamo partiti da un testo della del papa dove lui dice no che la etica oggi questa è una cosa molto positiva e al centro della nostra nostro interesse si fa molti convegni si scrive si discute ma il papa diceva che c'era il pericolo di inflazionare la parola etica dovuto a molti fattori anche culturali storici eccetera allora questo credo che è un pericolo reale alcune espressione dell'etica che si interfaccia con il mondo economico e si manifestano queste alcune di questi momenti questa espressione si hanno una una tendenza di per così dire essere debole o essere aggiustata alla realtà grande economica allora questo non deve succedere perché per due motivi uno perché la il mondo economico è un grande mondo e grazie a questo mondo noi abbiamo lo sviluppo e cosa tutte le cose che abbiamo siamo usciti in grande lo sa in una parte almeno della umanità della povertà che ha durato 50 mila anni allora noi noi vediamo nel mondo economico ovviamente una grande espressione dello spirito umano ma d'altra parte non dobbiamo dimenticare anche il vitello di oro sa della bibbia nel senso che noi sappiamo che il denaro ha l'effetto può avere l'effetto di diventare sostanziale per così dire questa è la vera alienazione quando un uno strumento diventa fine quando quando quello che è chiamato a servire diventa padrone anche in questo senso allora questo è un fatto anche della natura per così dire caduta dell'uomo allora ha bisogno di una etica forte non nel senso di che l'etica ha subito almeno l'etica accademica per così dire ha subito tutte le risposte ma deve essere una 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 inspirazione deve avere principi molto molto aggressivi per così dire per spingere avanti nella giusta direzione la 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 l'umanità poi nella pratica si grazie a dio ci sono molte esperienze positive di uomini e donne imprese diverse che riescono veramente a esprimere con forza con chiarezza questi valori etici per così dire vi do un esempio una volta stavo facendo lezioni sul tema della bugia ed è venuto fuori la bugia nel mondo economico si devo dire tutta la verità chi le devo dire tutte le discussioni poi subito dove mi sono trovato con un imprenditore che ha un grande impresa in un settore molto difficile dove c'è addirittura molta corruzione e io le ho domandato a lui ma tu come gestisci questa della bugia e mi ha guardato e mi dice io non ho bisogno che ho detto ma come mai dice io do qualità al mio cliente lui vendeva questi grandi tiers mille all'anno allora un giro molto grande e lui mi ha detto così il 90 per cento dei miei clienti mai mi chiedono il prezzo mi chiamano ho bisogno di una unità sanno che riceveranno qualità se non sono contenti posso restituire anche un'altra unità e veramente mi ha fatto pensare come ci sono uomini che riescono a avere quello che si poteva chiamare una prudenza ultima che riesce a seccare la soluzione perfetta per così dire o almeno umanamente perfetta anche in situazioni complesse questo per me l'ideale è come anche un buon medico che no uno gli dice che ho dolore dappertutto e riesce a seccare dove c'è il problema anche la etica gli ha portata alla pratica è questa quando l'uomo saggia per così dire riesce a portare tutti i suoi principi la conoscenza della realtà al momento della applicazione concreta quando questo è felice abbiamo per così della pienezza della etica e da lì possiamo risalire a come per così dire ha fatto quella decisione allora noi possiamo imparare in questo caso dei best practices che noi vediamo che si fanno allora dobbiamo imparare qual è stata la ricetta che ha portato questa che queste persone a fare delle decisioni così per così dire eticamente giuste